In questo lampo ci sono io, Guglielmo Marconi! C'è la mia infanzia e i miei primi esperimenti da ragazzino, c'è l'antenato di tutti gli apparecchi radio riceventi, c'è la prima trasmissione radio della storia confermata da un colpo di fucile, c'è la mia casa diventata un museo straordinario nel borgo che ora prendo il mio nome, Sasso Marconi, c'è il mio primo brevetto depositato in Inghilterra, in England, Ci sono i miei successi nel mondo e gli straordinari salvataggi resi possibili grazie alla telegrafia senza fili, c'è l'Elettra, la mia nave laboratorio, c'è il premio Nobel che ho ricevuto per il mio lavoro, c'è la mia eredità e l'evoluzione delle trasmissioni radio televisive che consentono oggi di unire tutti i popoli del mondo, io spero, in un futuro di maggiore tolleranza e comprensione.